Il decreto di Salva Roma è arrivato al 56. Il decreto di Salva Roma è arrivato al 56. Un po' più attenuata rispetto al primo Salva Roma che era proprio categorico nel dovete licenziare, dovete vendere, dovete privatizzare eccetera eccetera, ma che lasciava praticamente aperto qualunque cosa. Però come è successo la prima volta, appunto, potevano mettere la fiducia o imporre la bigliettina, quindi il taglio della discussione è il voto immediato del progettivo. Non hanno fatto né l'una né l'altra cosa perché al PD non importava se a fare Roma o non la mette a lui. Però che hanno fatto? Furbi. Ovviamente hanno scaricato la colpa su 5 stelle. La cosa più facile. La cosa più facile. La stelle Roma andrà a coppissariata. Per questa legge? Questa legge è arrivata praticamente direttamente in aula e tra l'altro anche monca perché mancavano degli allegati che erano le tabelle con la divisione delle circoscrizioni elettorali che i miei colleghi esperti di legge elettorale, perché io obiettivamente non lo sono, mi hanno spiegato, i costituzionalisti che ci stanno aiutando, mi hanno spiegato essere il cuore della legge elettorale. Quindi tu fare una legge, innanzitutto una pdl, una proposta di legge che non segue quest'iter, già significa che sei fuori dalla norma. Stai facendo una discussione in commissione sul testo che non esiste, ma di cui senti favoleggiare le litigi e leggi sui giornali. E vai in aula e ti mancano le tabelle con i collegi? Ma ne li stiamo a parlare? È una modella di sensibilità. E' una modella di sensibilità. Già di fritto.